Una vittoria che può segnare una stagione. Pazzesca rimonta della VL che alla vitrifrigoarena è costretta costantemente a inseguire la fuga di Sassari che arriva fino a più 12 ma Pesaro gioca un ultimo quarto strepitoso fino a trovare la vittoria con la bomba di tambone a 11 secondi dalla sirena per il 75 a 73 conclusivo. VL che sale a quota a 22 punti può pure sognare i playoff ma prima di tutto deve blindare la salvezza nel turno infrasettimanale di mercoledì ancora in casa con la fortitudo. Adesso muoviamo lo sguardo al prossimo impegno ci aspetta una partita di altrettanto livello di difficoltà riconosco il merito di Sassari di essere venuta a giocare qua una partita molto consistente abbiamo visto cosa significa avere squadre che lottano per certi traguardi a certi livelli hanno preparato molto bene questa partita ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo avuto un bello spunto secondo me in seconda parte di secondo periodo quello che ci ha permesso di riprendere in mano l'inerzia di questa partita e poi abbiamo trovato lo spunto decisivo negli ultimi cinque minuti di gara quando sembrava che oramai la partita avesse preso una direzione nonostante mi sgolassi per cercare di far capire alla squadra come ancora c'erano troppi possessi per pensare che questa partita non ci desse il varco e la possibilità di poterla giocare fino in fondo e così è stato. Nel calcio importante pareggio al fotofinish per la Vispesero che impatta 1 a 1 ad Olbia grazie a un gol meraviglioso di Marcandella che risponde al vantaggio di Ragazzo al 33esimo. Vis che si mette a riparo all'ultimo secondo dopo che a salvarla era stato Farroni con parate decisive compreso il rigore che ha negato il raddoppio a Ragazzo. Con questo punto la Vis si mantiene fra ottavo e nono posto in corsa playoff da conquistare nelle ultime due giornate. Pareggia 1 a 1 al 92esimo la Vis, pareggia 1 a 1 al 94esimo il Fano che con Vavassori si salva a Pineto. Fano che può ancora sperare nella salvezza diretta ma che al momento resta dentro la zona play out. Nel football americano c'è stato invece un amaro debutto casalingo per gli Angels Pesaro che al campo scuola di Via Respighi hanno perso 26 a 6 in casa contro i Doves Bologna nella seconda partita del campionato di terza divisione.